Eccoci allo shop del 22 aprile 2021 di Fortnite. Cosa abbiamo? Una novità. Abbiamo eco. Vediamo un po' com'è. Questo eco è un... è costituito da elementi, sembrano cose elementali. Vero acqua, terra, fuoco. Con il fiume sulla schiena, i pinetti sull'albero. Il simil McDonald, il Burghi, qua. Qualcosa c'ha? Un meteorite schiantato nella gamba. Con dorso reattivo. Col vulcanetto sul dorso. Bellissimo. Poi... Vabbè, questo sarà il suo picconazzo. Un teschio intrecciato con del muschio. Oh, poi abbiamo il ritorno di Isabelle. Troppo carina questa skin. La versione rossa. con lo zenetto libro e il suo emote che si trasforma. Bellissima. Sta skin secondo me è fighissima. Questo piccone bastone dell'astro mastro. Abbiamo Bruma, che ogni tanto torna nello shop, che conosciamo tutti bene. Il piccone a stella. Non quello classico, bacchetta a stella. Questo è un piccone. Poi abbiamo questa col costume da... da squalo. con la versione maschile. Con lo zenetto leggermente diverso. Deltaplano squaloso, meccanicoso. poiché abbiamo ancora il ritorno di Castore. Che carino, dai. Se i vostri nemici hanno questo, questa skin, carina, eh, robottosa, metallicosa, però potete fare facilmente headshot. I balletti. Cosa abbiamo? Ululato, che abbiamo già visto. Potenza stellare. Carinissimo. Questo già l'abbiamo visto tante volte. Lo sculettamento. Poi abbiamo questo bundle con le tipe. Uno, due, tre e quattro. e versione maschile due, tre e quattro. Oppure ce l'abbiamo separate. Mentre queste le abbiamo già viste tutte. Per oggi è tutto. Ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi. Ciao pixelini. Ciao.